Beautiful anticipazioni. Colpo di scena nel giorno del matrimonio di Steffi e Finn. Il matrimonio di Steffi e Finn, che coroneranno il loro sogno d'amore dopo la confessione di Vinny sulla falsificazione del test di paternità. Sarà anche l'occasione che metterà fine alla rivalità tra Steffi e Hope, che si stringeranno in un abbraccio sincero. Tuttavia, il matrimonio non sarà privo di colpi di scena. Niente rovinerà questo giorno, promette Ridge a sua figlia, mentre Steffi accetta felicemente un caloroso abbraccio da suo padre. Con gli amici e la famiglia riuniti nella villa Forrester per un'altra sontuosa cerimonia nuziale. Tutti prendono posto all'inizio della cerimonia. Una donna misteriosa al matrimonio di Finn e Steffi. Steffi si sta preparando e arrivano nel frattempo i genitori di Finn, Lee e Jack, che fanno la conoscenza della famiglia Forrester al gran completo, ormai tutto è pronto per iniziare la cerimonia. Ma ecco che qualcosa di inaspettato turba tutti i presenti. All'esterno della villa appare una donna misteriosa con un velo sul viso. Il prete che ufficia il matrimonio inizia la cerimonia con la consueta richiesta. C'è qualcuno qui che sa di qualsiasi motivo per cui questa coppia non dovrebbero essere uniti come marito e moglie. Parli ora o taci per sempre, annuncia. Proprio in questo momento che farà il suo ritorno in scena a Sheila Carter, una delle nemiche storiche della famiglia Forrester. La donna rivelerà di essere la madre biologica di Finn e non perderà tempo a far capire le sue intenzioni. Voglio recuperare il tempo perduto con mio figlio ed avere un rapporto anche con nipotino, dice. Steffi, ovviamente, andrà su tutte le furie. La giovane Forrester prova un grande rancore nei confronti della Carter, che ha causato tantissimi problemi alla sua famiglia in passato. Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video iscriviti al canale.